La consegliera Dominici volesse auzzare il livello della discussione sulla la dignità di Noneses a livello legislativo. Nel stadio, la Catarina Nonesa, del Sema d'Utelgroppe Provinziale della Lega Nord, ha presentato a Trent una proponetta demudament della legge numerica del 2008. Più avvisa, Lega e Dominici, con il sostegno dell'assessore Panizza per Endena, volesse a mudare l'articolo 3, che dice la delimitazione territoriale di Ola che vive la mendranza del Trentino, da Moena a Cianacei, per qualche vera di l'Adins per il regione Dolomitico. L'emendamento è stato insinuato, ha detto la Dominici, e adesso è girata commissione. Iter-senester ha detto che nel Statuto di Autonomia, l'articolo 48, dice che in posto del Consiglio Provinziale, è riservato per i comuni da Moena a Cianacei o la che vive l'Adins, il Statuto di Autonomia a valore della legge costituzionale. Il Statuto di Autonomia, come si è muda con la legge di valore costituzionale? La legge dello Stato dice che basta che la popolazione abbia già il 5% di minoranza, in questo caso la Dina. E allora, l'altra volta, 10 anni fa, non lo riesce a Verge nella provincia, la Zonta e specialmente il Delai, ma sicuramente questo buono non potrà pensare che non vengono fuori, che puoi pensare di fare quello che vuole loro, perché bisogna che la legge dello Stato sia metoda in pratica e che già abbia il riconoscimento. E l'articolo 48 del Statuto di Autonomia, che le leggi che vanno ora fuori, che è la della Stata italiana a livello ordinario, ha già le leggi del rank costituzionale? Appunto, la Zonta della provincia, la è fuori dalla legge, perché non rispettava la legge dello Stato, loro con fare la proposta alla Commissione dei 12, se dopo ne vengono fuori, se dopo ne vengono fuori, il decreto governativo, quel che già è da fare, per mettere dentro in testa tutto il seno che congono, non ci sono le cose, ma il seno che hanno un'altra roba, tutti bene in tazzuccia, che in all'ese dello Stato la congono sospettata ne può fare quel che gli vuole.